Al pari dei territori dei comuni di San Marco Illaimis, San Nicandro Garganico e Cagnano Varano, l'area di San Giovanni Rotondo rappresenta uno snodo strategico e di interesse per le varie compagini criminali della zona. E' quanto scrivono gli investigatori nell'ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, analizzando anche la criminalità organizzata che opererebbe all'ombra di San Pio. Sul territorio, scrivono ancora gli uomini della DIA, sebbene siano stati assicurati alla giustizia elementi di vertice della mafia garganica, il predominio del clan Libergolis non accennerebbe a diminuire e nel tempo ha proceduto a una rimodulazione del tessuto criminale composto da vecchie e nuove eleve particolarmente attive nel settore dello spaccio di stupefacenti. All'interno del clan dei montanari, però, non mancherebbero elementi che, sebbene collegati allo stesso clan, svolgono la loro attività criminale in maniera autonoma e controcorrente rispetto ai consolidati equilibri esistenti, rendendo quel territorio una sorta di zona fluida. Come emerso, peraltro, nelle indagini sull'operazione antidroga del 19 dicembre del 2020, denominata Drag Express, che ha permesso di sgominare un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti a San Giovanni Rotondo, con canali di approvvigionamento a Cerignola. Le attività delituose erano dirette da un pregiudicato che, secondo quanto emerso nelle indagini, era già legato alla batteria mafiosa Principe, a sua volta collegata con i Libergolis di Monte Sant'Angelo. Grazie. Grazie.